E' entrata in vigore a Roma l'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi che disciplina gli orari di funzionamento delle slot machine. Ridotto l'orario di accensione degli apparecchi ad 8 ore giornaliere, dalle ore 9 alle 12 e dalle 18 alle 23. Per le violazioni previste multe e in caso di recidiva la sospensione fino a 5 giorni dell'attività di gioco. Rimosse dalla polizia locale di Roma a Giardinetti e Torbella Monaca immagini in onore di due esponenti di clan criminali. E' stato cancellato un murales dedicato a Stefano Crescenzi ed eliminato un altare in omaggio di Serafino Cordaro. L'intervento è un messaggio forte a difesa della legalità e di presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini. Arrivano le telecamere anti-roghi nella pineta di Castelfusano nel decimo municipio. E' partito il nuovo servizio di videosorveglianza. Due telecamere sulla torre di Tumuleti e sul castello di giulio II di Ostia Antica, attive 24 ore su 24, garantiscono controllo e salvaguardia dell'area verde. L'iniziativa rientra in una serie di misure per riqualificare e tutelare la pineta, soprattutto a seguito degli incendi degli anni passati.